La varicella è una malattia molto contagiosa e colpisce soprattutto i bambini in età scolare. Sebbene sia disponibile da alcuni anni un vaccino, la copertura in età pediatrica è inferiore al 35%. Principali sintomi sono febbre alta, esantemi e prurito intenso. Dura dai 5 ai 7 giorni, ma può avere un decorso più lungo nei bambini di età inferiore ad un anno. Si cura con antistaminici per il prurito e antipiretici per la febbre. Esiste un vaccino ben tollerato che può essere somministrato anche insieme all'antimorbillo, parotite e rosolia. La prima dose può essere somministrata già a 12 mesi e si raccomanda una seconda dose tra i 5 e i 6 anni.